Sei incidenti nelle ultime 48 ore, praticamente tutti alla punta di Migiandone. Per fortuna finora il fatto è stato benevole con nessuna grave conseguenza per chi era al volante delle autovetture. Ma visto che tre indizi fanno una prova, sei ne fanno due di prove, c'è qualcosa che non va e i segnali non possono essere ignorati da chi di dovere. In quel punto l'asfalto è particolarmente scivoloso quando piove, la velocità di chi transita è spesso oltre i limiti e non ci sono cartelli che segnalano la pericolosità di quel tratto di strada. Non si scherza con il fuoco e soprattutto non si può mettere a repentaglio la vita delle persone. Ci siamo già mossi le parole del sindaco di Ornavasso Filippo Cigala Fulgosi scrivendo una lettera protocollata alla provincia nella quale chiediamo l'immediata messa in sicurezza di quel tratto di strada. Non si può rimanere fermi di fronte a questa incredibile catena di incidenti che evidentemente hanno delle cause e non sono frutto del caso. E tra le cause ce n'è una sollevata dall'assessore Kregar. Mi fa riflettere le parole dell'esponente dell'Aggiunta Ornavassese il fatto che questa raffica di incidenti sei nelle ultime 48 ore ma una quindicina in totale coincida con la chiusura nella provinciale Premosello-Mergozzo e di conseguenza con l'aumento del passaggio di automobilisti che conoscono poco questa strada.